Mi farà stare! Portaci le scarpette che hanno noi, farai felice anche a bambini! L'Audax Bobalinese è da sempre sensibile, anche quest'anno sarà protagonista in campo sociale con l'iniziativa La Scarpetta Solidale. Come è evidente dal titolo, La Scarpetta Solidale si riferisce alle scarpette da calcio che i nostri ragazzi non usano più. L'iniziativa all'intento di incoraggiare il bambino all'educazione solidale con un gesto semplice ma importante, raccogliere le scarpette e donarle a chi ha bisogno. L'iniziativa programmata con il Kevanese Club Magna Grecia Luigi Giugno e patrocinata dalla città metropolitana di Reggio Calabria e dal comune di Bovalino avrà il suo apice il 17 dicembre domenica presso l'Eurotel di Ardore Marina dove le scarpette raccolte saranno donate al Kevanese che provvederà a donarle a sua volta alle associazioni e orfanotrofi che avranno bisogno. Don anche tu le tue scarpette. Antonio, tu me le regali le tue scarpette? Sì. E a chi le diamo? Ai bambini che non ce l'hanno. Ai bambini che non ce l'hanno. Scarpetta Solidale è l'iniziativa Audax Bovalinese. Forza Audax Bovalinese! Mi farà stare bene!